la sindone è se stessa quando si lascia illuminare dal Vangelo quando viene ascoltata e viene proposta a rincalzo dell'invito evangelico i due racconti della sindone e dei Vangeli si confermano a vicenda perciò applicarsi alla sindone e applicarsi ai Vangeli sono fatti che non si distinguono tra di loro si aiutano a vicenda e allora si capisce che il Papa, il Beato Giovanni Paolo II quando venne a Torino nel 1998 chiamò la sindone specchio del Vangelo grazie a tutti